E' stato arrestato ieri mattina un giovane aquilano di 25 anni, Gianmarco Paolucci, incensurato, rinchiuso nel carcere di Frosinone, ora accusato di aver ucciso il dipendente di 55 anni dell'SM, Paolo D'Amico, trovato morto il 24 novembre del 2019 nella sua casa nelle campagne di Barisciano. L'accusa è di omicidio volontario, aggravato dalla violenza e inflitta sul corpo con 20 colpi e per futili motivi, inchiodato grazie all'estrapolazione del DNA. Un fatto di sangue che aveva sconvolto la comunità aquilana. Indagini lunghe e complesse condotte dai carabinieri del nucleo investigativo, coordinate dal procuratore della Repubblica Michel Renzo e dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, l'aquilano è per ora presunto colpevole perché ci vorranno un processo e due gradi di giudizio prima di stabilire la verità giudiziaria. Il comandante provinciale dei carabinieri ha spiegato che sono partiti da un cadavere e piantine di marijuana. Il movente infatti potrebbe essere legato proprio alle attività di produzione e spaccio di marijuana portate avanti dal D'Amico e testimoniate da molti conoscenti sentiti dai carabinieri. L'attività fondamentale di repertamento sulla scena del crimine e quindi l'individuazione di materiale da contatto sugli indumenti della vittima hanno consentito di poter repertare un DNA che il RIS di Roma ha potuto confrontare con tutta quanta la cerchia di persone sospette che avevamo individuato nell'ambito dell'attività di indagine. La ricostruzione dei fatti colloca l'omicidio nel pomeriggio del 22 novembre. I militari dell'arma hanno riscontrato delle congruenze nelle dichiarazioni rilasciate dal giovane arrestato macellaio in un supermercato di una frazione dell'Aquila che aveva dichiarato di essere altrove mentre invece dai riscontri erano un'area compatibile con quella dell'omicidio. In particolare lui durante l'operazione in cui veniva sentito ha ritrattato su una circostanza che ci è sembrata strana cioè sul fatto che non fosse mai stato all'interno dell'abitazione della vittima cosa che invece poi ha ritrattato subito dopo. Più importante è stato successivamente quando ci siamo accorti dall'analisi tecnica dei tabulati di questa persona che le dichiarazioni che lui aveva fatto confliggevano con l'analisi dei tabulati perché lui ci ha dichiarato di essere stato la mattina al lavoro e poi di essere andato direttamente nella sua abitazione. Cosa che invece i tabulati hanno smentito collocandolo in una cella compatibile con l'abitazione della vittima. Fondamentale è stata l'analisi del DNA. Nei primi mesi del 2020 infatti era emerso che sul capo di abbigliamento di D'Amico, oltre al suo sangue, c'erano tracce di DNA del presunto assassino estrapolate dal RIS. I carabinieri sono riusciti ad ottenere il DNA del presunto colpevole dopo un controllo di alcol test durante un controllo tradizionale su strada. Le tracce trovate sulla caviglia della vittima, trascinata probabilmente dentro casa. Molte persone sentite hanno confermato che erano acquirenti della vittima, sono state ritrovate piante ed alcune esiccate nel garage. Due le armi del delitto, uno scalpello che D'Amico usava per il restauro di mobili antichi e una mazzetta repertate nel luogo del delitto, compatibili con le ferite riportate dalla vittima. Paolucci, difeso dall'avvocato Ceci, nel primo interrogatore all'Aquila si è avvalso della facoltà di non rispondere.